Roma è una grandissima città, viene chiamata la città eterna. È una città fatta di strade, di vicoli, di piazze, di monumenti. Ovunque ci si giri c'è un angolo di storia, lo si può proprio dire. Ma c'è una via, una via dal nome un po' particolare, una via che parte da una grande piazza dove ci sono i giardini di Villa Aldobrandini e corre verso ovest. È una via appunto da un nome strano, un nome che viene associato da tutti, da tanti, tanti anni, a un gruppo di ragazzi straordinari. Un gruppo che poi si è perso nel tempo e non solo, anche nello spazio. Qualcuno non si è più ritrovato, qualcun altro è scomparso nel nulla, qualcun altro invece ha fatto fortuna e ha cambiato il volto della storia. Questa via si chiama via Panisperna e questa è la storia dei ragazzi di via Panisperna. Perché si dice ragazzi di via Panisperna? È un'espressione colloquiale con cui nel tempo è passata la storia quel gruppo di giovani fisici, matematici e comunque grandi teorici che vennero radunati in quello che allora era il Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma dal professor Orso Maria Corbino. Siamo negli anni venti. La fisica sta facendo dei passi in avanti veramente giganti grazie a scoperte sempre nuove. Pensiamo ai vent'anni precedenti, dalla fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Quante scoperte sono avvenute e quante ne stanno ancora avvenendo? In giro per il mondo ci sono grandi menti, menti molto brillanti. Pensiamo al danese Niels Bohr, l'uomo che aveva scoperto i quanti, cioè quei pacchetti di energia che si muovono. Oppure alle scoperte fatte dai coniugi Curie in Francia, attorno al radio e a quella che verrà chiamata radioattività. Ma non solo. Pensiamo a Ulam, un geniale polacco che poi migrerà negli Stati Uniti. A von Neumann, un ungherese dal nome tedesco che anche egli migrerà negli Stati Uniti e sarà uno dei padri sia della fisica e della matematica quantistica che della ricerca in ambito dei microchip. E poi ci sono i ragazzi di Via Panisperna, questo gruppo potremmo dire eterogeneo di studiosi radunati per analizzare la fisica e tutti i suoi ambiti più nascosti, più reconditi. Chi sono questi ragazzi? C'è Edoardo Amaldi, una mente molto brillante che poi nel secondo dopoguerra sarà alla guida del Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma, un dipartimento che tra gli anni 50 e gli anni 60 vivrà una fase fantastica, bellissima, il miglior periodo per la fisica italiana, con decine, a volte centinaia di studenti che sperano di partecipare ai corsi del professor Amaldi. Poi c'è Franco Rasetti, c'è Emilio Segretti. A un certo punto si aggiungono altri ragazzi. Si aggiunge nel 34 un ragazzo, o meglio un fisico dal nome molto particolare, si chiama Bruno Pontecorgo e il suo nome, anzi il suo cognome, diventerà famoso parecchi anni dopo, sia per quello che farà lui che per quello che farà il fratello Gillo, grandissimo regista. Poi c'è un chimico, Oscar D'Agostino, e c'è Enrico Fermi, il primo allievo del professor Corbino. È stato Fermi a insistere con il professor Corbino per istituire la prima cattedra di fisica teorica nel 1926, cioè otto anni prima dell'avvio degli studi in via Panisperna. Enrico Fermi lo dicono tutti, è un genio, ma non è l'unico genio, ce n'è anche un altro, un fisico teorico siciliano di nome Ettore Majorana. Sono loro i ragazzi di via Panisperna. C'è una foto molto bella, in bianco e nero, che li raduna quasi tutti. È una foto scattata da Pontecorgo al di fuori del Reggio Istituto. In quella foto si vedono D'Agostino, Segre, Amaldi, Rasetti e Fermi. È una delle poche istantanee che ci sono giunte da quel periodo, in cui vediamo questi ambienti brillanti tutti assieme. Assieme questi ragazzi, o meglio, questi studiosi, riescono a fare dei grandi passi in avanti. Usufruiscono degli strumenti messi a disposizione dal locale laboratorio, in cui studiano la spettroscopia atomica e anche quella molecolare, e riescono a penetrare i primi segreti del nucleo degli atomi. Come? Con quella che sarà la tecnica utilizzata anche in seguito per scindere l'atomo, cioè il bombardamento attraverso una pioggia di neutroni. Ma non solo, utilizzeranno ad esempio il beriglio, altro elemento molto delicato nell'ambito della fisica degli elementi. Utilizzeranno anche il radon, quel gas di cui oggi si parla tanto come possibilità per prevenire i terremoti. I ragazzi di Via Panisperna, tra 1933 e 1934, quando si radunano tutti quanti sotto l'ala del professor Corbino, lavorano in armonia, nonostante attorno a loro l'Italia non sia esattamente in armonia. Siamo nel pieno del periodo fascista, siamo nel pieno dell'apogeo del fascismo. D'altronde appena un anno dopo ci sarà l'aggressione all'Etiopia, il periodo delle sanzioni, l'isolamento internazionale, anche se non completo, dell'Italia, e poi ci sarà la guerra di Spagna. Un periodo molto turbolento, in cui però i ragazzi di Via Panisperna riescono tutto sommato a isolarsi e a proseguire le loro ricerche. Lo fanno dal 1933 fino al 1938. Sono cinque anni intensi, ma che vengono improvvisamente fermati da due eventi. Il primo sono le leggi razziali. Nel 1938 l'Italia fascista, per uniformarsi alla politica varata dal vicino nazionale socialista, cioè dalla Germania di Hitler, decide di varare una propria politica razziale. E questo significa l'esautorazione dalle cattedre, oltre che l'esclusione dalla vita sociale, di parecchie categorie di cittadini, a cominciare dagli ebrei. Segre è ebreo. Ponte Corvo anche. Enrico Fermi ha sposato una donna ebrea. Loro sono tra i primi ad abbandonare il Reggio Istituto di Ricerca Fisica, perché sanno che non avranno futuro. Non gli verrà permesso di continuare il loro lavoro. In quel periodo sono tantissimi gli italiani che perdono l'opportunità di lavorare. O addirittura c'è chi perde la pensione. Ci sono decorati e generali della Grande Guerra che vengono costretti al riposo, alla perdita del grado e la pensione. c'è chi anche si suicida per la vergogna. Solo perché sono ebrei e quindi non possono più avere uno spazio all'interno dello stato fascista. Fermi e Segre migrano negli Stati Uniti. E lì saranno tra i padri di quello che verrà chiamato Progetto Manhattan, un progetto creato per elaborare il mondo degli atomi, scoprire come ricavarne energia, energia prima per scopi civili e poi per sviluppare l'arma definitiva, l'arma mai vista prima d'ora, la bomba atomica. Enrico Fermi e Emilio Segre saranno appunto nell'equip che radunerà tanti scienziati arrivati da tutto il mondo. Alcuni ne abbiamo già fatto il nome. Bohr che scappa dalla Danimarca, Ulam che scappa dalla Polonia, Von Neumann che è già scappato da tempo dall'Ungheria e le migliorimenti americane guidate da Oppenheimer per raggiungere quell'obiettivo. Ponte Corvo invece è scappato in Inghilterra e lì diventerà anche lui parte di un progetto molto delicato che porterà poi alla nascita della prima bomba atomica di sua maestà. Prima di scappare, scappare di nuovo, scappare in Unione Sovietica perché Ponte Corvo è intimamente comunista, crede nella dottrina comunista. Gli inglesi lo accuseranno di essere una spia, di aver addirittura trafugato i progetti della bomba atomica britannica per passarla ai sovietici, ma non è così. Addirittura ancora oggi in certi ambienti il cognome Ponte Corvo è associato a quello di Fuchs, il fisico austriaco che lui si trafugò parte dei progetti del progetto Manhattan per regalarli ai sovietici. E poi c'è Ettore Majorana. Ettore Majorana è una persona molto particolare, è introverso Majorana. C'è chi dice che sia anche un po' fragile, c'è chi dice che soffra di una depressione profonda e che il suo grande genio sia limitato proprio da questi meccanismi di autodifesa del carattere. Quello che si sa di Majorana è che scompare nel nulla. Scompare nel corso di un viaggio, un viaggio che lui aveva pianificato di compiere nella natia Sicilia, ma è un viaggio che non si concluderà mai, perché Ettore Majorana scomparirà nel nulla. C'è chi dice a Napoli, c'è chi dice sul traghetto che attraversa il tirreno e da quel momento parte la caccia a Ettore Majorana. Dove è finito? Perché non si fa più vivo? È morto? E se è morto? Come è morto? Ha avuto un malore, si è gettato in mare, si è suicidato, è stato ucciso. Per alcuni mesi parte una caccia all'uomo, addirittura Mussolini in persona vuole sapere che fine abbia fatto quel fisico così geniale eppure così introverso. Vengono emanati dei bandi di ricerca, vengono dati ordini per la polizia, per bussare a tutte le porte possibili. E da quel momento inizia una leggenda, la leggenda della sparizione di Ettore Majorana. Una leggenda che porta verso alcuni monasteri, in particolare uno in centro a Napoli, perché si dice che Majorana abbia deciso di abbandonare tutto e di ritirarsi a vita monastica, cambiando identità, vestendo il saio e facendo voto del silenzio. Ma le ricerche nei monasteri non portano a risultati chiari. Ci sono tanti detto e non detto, si dice e contraddizioni, ma non c'è una pista chiara. Majorana non è scappato all'estero, perché d'altronde anche le poche supposizioni che lo vorrebbero in Francia, in Inghilterra, in Unione Sovietica assolutamente no, perché non era il suo credo, non portano a nulla. Majorana non è scappato al di fuori dell'Italia. E allora dove è andato? Ci sono delle lettere che lui ha spedito, dei telegrammi molto enigmatici, ma che anche questi non danno una chiave di lettura assoluta. La domanda che tanti si fanno è ma se non ci fossero state leggi razziali? E se Ettore Majorana non fosse scomparso nel nulla? L'Italia avrebbe avuto la bomba atomica? Sono delle domande piuttosto oziose da fare, anche perché una risposta chiara è impossibile da dare. Certo che lo sforzo bellico-americano inteso alla realizzazione della bomba atomica fu qualcosa di irripetibile. Immaginate tante menti brillanti arrivate da mezzo pianeta per lavorare assieme. Ecco, i risultati del progetto Manhattan furono eccellenti, proprio grazie a questo melting pot, come dicono gli americani, o potremmo dire come un groviglio di menti che si ritrovarono al di là delle barriere linguistiche, al di là delle storie personali di provenienza, dei paesi di provenienza, per lavorare in armonia tutti assieme, con fondi illimitati e con ampia disponibilità di materiali e di laboratori. L'Italia non aveva le attrattive degli Stati Uniti, né in termini di leggi favorevoli alla ricerca, e non parliamo nemmeno appunto delle leggi naziali che alla fine avevano il carattere di troncare la ricerca, e neanche in termini di mezzi. Non c'era quell'abbondanza di fondi a disposizione, di laboratori e anche di materiale su cui lavorare. Quindi è molto difficile che l'Italia potesse sviluppare, pur mantenendo unito il gruppo di via Panisperna da bomba atomica. Magari ci sarebbe arrivata tanti anni dopo, chi lo sa. Gli studenti di Edoardo Amaldi negli anni Sessanta continueranno a chiedere al professore chi erano i ragazzi di via Panisperna, cosa avevano fatto i ragazzi di via Panisperna, e soprattutto che fine aveva fatto Ettore Majorana. Edoardo Amaldi, che era un uomo molto intelligente, ma di grande tatto, più delle volte preferiva non rispondere, preferiva invitare i suoi studenti a concentrarsi sul materiale da studiare, ma qualche volta poteva anche cedere. E una volta si lasciò andare una piccola rivelazione. All'ennesima domanda sulla fine di Ettore Majorana, il professore alzò le spalle e disse lo hanno fatto sparire. Nessuno ha mai interrogato Edoardo Amaldi per capire da dove nascesse questa sua convinzione a riguardo al collega, ma è chiaro una cosa, se Ettore Majorana davvero è stato fatto sparire, vuol dire che aveva scoperto qualcosa che non doveva scoprire, o che le sue risultanze, del suo lavoro risultavano pericolose per certi interessi. E allora qui potremmo entrare nel campo di tante ipotesi. A chi poteva andare fastidio le scoperte di Ettore Majorana? Forse agli Stati Uniti, ma all'epoca non c'erano degli agenti operativi statunitensi sul territorio italiano. Forse all'Unione Sovietica, ma all'epoca, partiamo sempre della fine degli anni 30, in Unione Sovietica la fisica teorica, la fisica nucleare, erano molto arretrate. Allora forse Ettore Majorana aveva capito qualcosa all'interno del suo lavoro che poteva essere pericoloso, perché Majorana aveva colto l'essenza del regime fascista, aveva capito quanto la sua violenza e quanto la sua voglia di dominare e predominare fosse evidente e portasse verso la distruzione, specie dopo l'abbraccio mortale col nazismo tedesco. Forse Majorana aveva deciso di non piegarsi più, di non voler più lavorare per un padrone così crudele. Forse aveva avuto anche il coraggio una volta nella vita di dire qualcosa di estremamente scomodo e forse per questo è stato fatto sparire. D'altronde l'Italia degli anni 30 era un'Italia dominata dalla polizia politica fascista, l'Ovra, che agiva con pieni poteri, poteva sequestrare gli oppositori, spedirli davanti a un tribunale speciale, li poteva far condannare a un confino, oppure poteva anche agire all'estero assassinandogli oppositori politici. Chissà che non sia stata l'Ovra in quel periodo a far sparire Ettore Majorana o qualcun altro sempre manovrato da certi interessi. Resta chiaramente l'interrogativo massimo. Cosa sarebbe stato dei ragazzi di Via Panisperna se avessero potuto lavorare in piena serenità, senza un regime opprimente, senza delle leggi mostruose, come quelle per la cosiddetta difesa della razza? Cosa sarebbe stato e cosa avrebbe avuto l'Italia in cambio dalle ricerche condotte da quei elementi giovani e brillanti che successivamente disperse portarono comunque grandi risultati all'umanità in vari ambiti, ma senza più ritrovarsi completamente come uomini, come studiosi, ma anche come grandi amici quali erano stati in quel periodo della loro vita.